Seracusa, pallannuoto, Ortigia. Il comune viola i divieti di legge e mette a rischio le manifestazioni sportive. Il circolo canottiere Ortigia rende noto quanto è accaduto nella mattinata di ieri presso la cittadella dello sport di Seracusa. Il comune di Seracusa si è reso incredibilmente protagonista di una violazione dei divieti di legge e di un atto che mette a rischio le manifestazioni sportive. Nel giro di appena un paio d'ore, infatti, l'amministrazione comunale ha compiuto una duplice azione che per la sua gravità merita di essere portata a conoscenza della città. Come noto, il tribunale di Seracusa ha dato l'incarico a un consulente tecnico d'ufficio di accertare la consistenza tecnica e economica dei lavori di riqualificazione eseguite dal circolo canottiere Ortigia nel corso della sua gestione. Per legge, durante l'operazione per Italia, è obbligo delle parti non mutare lo stato dei luoghi. La condotta contraria, infatti, è sanzionata penalmente. Proprio nella mattinata di ieri, 8 aprile, era in programma un accesso all'impianto del CTU, il quale, al suo arrivo, ha constatato la presenza di una squadra di operai incaricati dal comune di eseguire dei lavori. Il consulente, allora, ha sospeso le proprie operazioni e, constatata e messa a verbale la violazione di legge, ne ha subito informato il tribunale per i provvedimenti del caso. Nel corso della mattinata, in un crescendo di iniziative illegittime, arriva un secondo atto che ha dell'incredibile. Un dirigente dell'ufficio dello sport ha comunicato al circolo canottiere Ortigia che l'avere garantito fino ad oggi lo svolgimento effettivo di tutti i servizi di gestione e non dà titolo di riscuotere le quote d'utenza da parte delle società che operano alla cittadella. In mancanza di acquisizione e improprio dell'attività degli oneri gestionali da parte dell'amministrazione, una simile presa di posizione rende inattuabile, qualsiasi cura per lo svolgimento della manifestazione e degli incontri agonistici in programma per questo fine settimana. La società ha già provveduto a comunicarlo alle squadre interessate e agli uffici competenti. Ci chiediamo se questo sia un modo corretto di gestire lo sport nella nostra comunità. Ai cittadini seracusani lasciamo ogni valutazione e risposta.